ciao amori come il tempo da voi oggi qui ha piovuto a dirotto finora ma comunque speranzose anche perché cambierà sicuramente anche se oggi non non c'è il sole voi sapete che la vostra gabrie un po meteoropatica vabbè io comunque mi sento un sole oggi un sole con indosso che cosa ditemelo voi amiche mie devo stare ferma questo bellissimo cappotto ma voi lo ricordate questo bellissimo cappotto che è quel tessuto che mi piace tantissimo quello meraviglioso vedete con quella righina che abbiamo avuto i nostri cappotti azzurri rossi neri verdi che abbiamo ancora qualcosa questo ha la possibilità di essere rigirato e quindi diventare anche non so una manica tre quarti per quanto ci sono le mie amiche me lo dici bene 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 poi vi dico colori e taglie anche perché sono tutti lì sullo stendino ragazze facciamo che se teniamo la cintura girata da una parte è in ecopella nera come il carri dietro e come il bordo vediamo e se la giriamo dall'altra parte sarà poi tutta verde deciderete voi che cosa farne a morì cosa dite dell'abito sotto ve lo ricordate lo sto riproponendo perché questo ci porta io dico quasi fino all'estate ma poco importa era perché volevo vestire tutta nera per provarvi magari un cappotto o due e cosa manca le prix manca il prezzo bene provate a tirare a indovinarlo voi il prezzo di questo cappotto made in brescia ok tessuto fantastico quel panno semi elasticizzato da 139 euro a mi appoggio mi attacco cosa dite mi attacco in questo momento meglio altrimenti cado per terra siete pronte ci sono sì 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 ma mi fai un piacere sì è perché ho scritto sei gli aggiornamenti tesoro il commentino sì no il numero di apresi però posso farti vedere e sorridiamo in due ma guarda non sono rimasti a vero a vero capito a vero io cosa devo fare non si sposta non si riduce non fa nulla sì ma provi tu provi tu a vedere un attimo abbiamo un problema con il numero di telefono è venuto fuori gigantesco sono rimasti impressi in maniera gigantesca credo sul mio volto addirittura sì sì infatti se riprendo laterale così intanto leggo daniela scrive buon pomeriggio bellissime stavo dicendo il prezzo tanto l'ho aspettata è finata a indovinare susanna ciao belle signore rosa buona giornata fabio mamma mia gabri quanto sei stupenda gabriella ciao a tutte susanna ciao fanciulle mi tenete compagnia durante il viaggio di ritorno grazie grazie bene perfetto vediamo sono tolti no non ancora lascia entrare un secondo che allora io vado avanti così eh sì tanto c'è ogni bu grossa così i numeri grossi come una casa forse perché qualcuno pensa che diamo i numeri può essere non è vero i numeri li do soltanto con 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 io non so tu che cosa abbia combinato ma ti conviene chiudere e ripartire come mai vediamo se riesco a fare qualcosa io ricancelliamo la diretta e ripartiamo da capo come mai non c'è modo di toglierli allora rimuovi rimuovi ce l'ho boh the best videomaker the best tolto io tagli un attimo io ho chiesto aiuto yeah vai verde come non mai dove eravamo rimaste vabbè stiamo facendo vedere che era il prezzo che siamo rimasti che si rigira che la fatta è nera la fatta è verde che lo potete chiudere e portare aperto come cavolo volete voi con il carre dietro e il porcino che si gira e si birra diciamo da capo quindi dicevo che vi porto il sole nelle vostre case ringrazio fabio dei complimenti che mi fa in tutti i video ringrazio le mie amiche per essere sempre lì price termine price avevo detto indovinate voi il prezzo di questo cappotto abbiamo in due colori sì oggi ho voluto dici che sarà questo il colore che arriverà in primavera può essere il famoso verde veda che dice male non lo sappiamo non lo scopriamo ma comunque sia il cappotto ve lo diamo a 49 euro boom boom non è possibile ragazze credo che siano più o meno sortiti da una taglia fino all'altra poi andiamo e ve lo diciamo qualche assortimento c'è cos'è che ha fatto il nostro caroale e dell'ha detto ieri è andato nel secondo magazzino è andato a pigliare questi e qualche altro cappotto che adesso vado a svelarli c'è ragazze 49 euro così come l'abito anche questo costa 49 non mi ricordo devo andare a vedere ho un piccolo dubbio ma piccolo 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 quindi state ferme un attimo sul pezzo dell'abito che andiamo a vedere anche in cappotto dimmi casa abbiamo olivia che scrive che siamo meglio noi delle notizie del tg sì sì vero 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 dove ci troviamo dai forza ditelo voi forza 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 adesso vi interrogo a villa carcina provincia di brescia 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 ci trovate qui il negozio ha gli orari normali di negozio ci siamo chiusi la domenica e poi ci trovate sempre solo ed esclusivamente su whatsapp li fate tutte le vostre richieste non fate richieste qui sotto perché vengono ecco perché magari i numeri sono venuti fuori grossi così ok io vi leggo leggo i vostri complimenti leggo tutto quello che mi scrivete ma le richieste dei capi che indosso o che propongo vanno chieste su whatsapp ci siamo chiaro su tanto abbiamo virna che ti saluta dall'asdraio e io lo so in egitto poverina sì 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 lo so lo so aspettavo proprio questo saluto lo sai che lo aspettavo mi sono detta nel video precedente no mi ha ancora salutato la nostra virna quindi abbronzati fatti bella più che mai e quando torni a parte che al limite puoi scrivere lo stesso che ti appartiamo le cose quando torni vieni a trovarmi così mi racconti anche come sei stata dolce virna ok andiamo a vedere i capotti taglie colore il prezzo dell'abito che non ricordo cosa dite vediamo dopo i manichini si cominciamo andare sì perché oggi allora vi faccio vedere quello che c'è lì poi facciamo un giro in negozio quindi preparatevi se avete qualcosa da chiedere la dolce cat sicuramente vi becca i messaggi e quindi e quindi cercherò di inoltrare a voi immediatamente le risposte quindi oggi interagiamo cosa dite amore miei interagiamo 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 allora adesso mi infilo il anche però solo un dubbio sì 49 perché sai a volte a volte mi capita perfetto 49 euro sapete che c'è nero e verde e viola perché ho indossato questo abito che tra le altre cose guardate se lo volete tenere giù lo tenete giù e se lo volete tenere giù lo tenete giù con tutte queste belle piegoline che fanno bene al fisico quando volete coprire qualcosa tolgo un attimo il cappotto da questo cappotto è come avere su praticamente un indossare come come indossare un cardigan è stupendo è meraviglioso è leggero è caldo sapete che poi sopra potete abbinare peli non peli mantelle non mantelle tutto ciò che più vi aggrava mettiamo un secondino qui e poi vi faccio vedere il resto abbiamo luciana che mi manda un abbraccio e dice sempre elegante la signora gabriella gli sta tutto bene è un corpo bellissimo grazie 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 complimenti mi fanno sempre molto ma molto ma molto piacere indossavo una 42 abbiamo qui credo ma vediamo perché sentivo parlare che forse avevano dimenticato a me sembrava fossero assortiti in tutte le taglie non so se la doni me li ha messi da qualche parte sono un po io in mano glielo ho visti però eccoli qua eccoli qua perché lei giustamente ha messo fuori una taglia più piccola una taglia più grande quindi quindi il verde parte dalla 42 assortito fino alla taglia 54 ma proprio 42 44 46 48 50 52 e 54 lo avete qui da vedere quindi ragazze 49 euro questo cappotto lo prendete adesso lo togliete a maggio ok e con l'igel eh sì eh sì eh sì dalla 42 alla 54 diamo un'occhiata anche qui guardate che stiamo mettendo la 40 visto che c'è allora vi dico che qui potrebbe mancare solo la 54 ma chiediamo se l'hanno dimenticato forse il magazzino ora vi indosso l'altro colore che è fantastico che non è il questo l'avevamo chiamato pavone questo potrebbe essere cosa vi devo dire il laguna potrebbe essere il puffo potrebbe essere il puffo più vicino perché è solo meraviglioso facciamo vedere anche il rovescio di questo cappotto che è fantastico guardate questa specie di jersey comodissimo praticissimo tra le altre cose scivola addosso qui c'è qualcosa che non quadra aspetta un attimo sì no 42 lo sentivo semplicemente più morbido probabilmente ho un dubbio aspettate un attimo perché io le cose le sento nell'indossare no mi sembrava più piccolo quello in realtà secondo me quello è più piccolo non so cosa perché ma secondo me quello lì è più piccolo devo controllare la taglia comunque l'ho sentito nell'indossarlo immediatamente allora rigiriamo su il tutto così avete modo di vedere che il polso si gira e lo potete lasciare facciamo che ne giro uno e l'altro lo lasciamo giù 49 euro ragazzi dai ditemi qualcosa 49 euro io francamente non saprei che colore scegliere perché sono tutti meravigliosi ma davvero cioè questo è il colore che secondo me sarà anche in arrivo questo sicuramente è un colore che ci sarà sempre il nero al quale abbinarlo sempre qualcuno sta guardando questo abito se nera uno me l'hanno dato a 30 euro ragazze e costava 99 è una taglia 42 veste bene ha il laccio dietro quindi con questo arriviamo 42 44 però siccome è l'unico che c'è vi dico subito giacca potete abbinarlo anche col capotto e metterci la stola sopra questo è un tessuto meraviglioso un tessuto guardate rasato sembra seta a toccare impalpabile proprio quando c'è questo cuoricino sapete che è sinonimo di garanzia da 99 euro a 30 euro ok 42 44 sopra coprispalle golfino di tutto e di più cosa posso dirvi qual è il colore scegliete di questo io devo dire che sono uno più bello dell'altro quindi poi non dovremmo farcelo scappare nemmeno noi un capotto così a 49 euro 49 euro amiche mie 49 euro quindi 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 che si fa ragazze fatemi sapere e boom chiedete dove chiedete su whatsapp vedo che stai scrivendo si è la mia Antonella mi ha scritto ciao Kate non dimenticarti di farmi vedere la giacca marrone baci un saluto alla spenda signora la prendete presente l'anno prima si che gli ho detto sto andando in diretta non ti posso assicurare che ce l'abbia nello stendino ma posso fartela vedere certo poi andiamo a facciamo e poi ricordo le misurine perché sempre taglia 42 44 cm 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 42 44 non ci dite proprio nulla facciamo un attimino anche una piccola parentesi noi abbiamo un taglio di confezione sartoriale se voi siete abituati alla vostra sml scordatevela se siete abituati a certi 40 42 44 46 massimo perché tante linee arrivano lì scordatevi, sono quelli che sono troppo asciutti, noi avendo un taglio diciamo sartoriale i nostri capi vestono sempre, non dico di più ma molto molto bene, a parte questa giacchina che devo dire io metterei una 44 piuttosto che una 42 mettevo, adesso sono un po' diminuita quindi forse metterei la 42 ma ci arriviamo piano piano poi vi provo se c'è la taglia perché non credo che ci sia la mia taglia là in quelle marroni comunque, c'è un 42 sì il 44 l'ho messo in parte per lei nell'attesa, esatto io ho detto che veste bene, ok quindi poi arriva, perché ho visto Kate prima che girondolava, eh sì, velocissima quindi ti sta colando di sicuro ritorniamo a dire dalla 40 alla 54 cappotti in questi due colori meravigliosi, dimmi Kate o riguarda proprio il cappotto, Graziella chiede ciao mi sono collegata adesso, che tessuto è il cappotto e che colori? il tessuto è il tessuto più bello, è il velour che quando abbiamo questi tessuti qui praticamente scappano via più di tutti abbiamo avuto rosso, lo abbiamo avuto azzurro, lo abbiamo avuto verde bianco, è proprio un velour bellissimo e meraviglioso comunque costava 139 euro se lo volete sapere, ok essendo della collezione precedente, precedente e probabilmente gli sono andati un po' nel dimenticatoio, cioè erano nell'altro magazzino non sott'occhio sicuramente mi ha detto Gabri lo vuoi? lo voglio devo altro che lo voglio certo che lo voglio devo farlo vedere alle mie amiche so che allora se uno dice 49 euro ma quella lì che cosa sta dando? come fa a essere di qualità? e beh ragazze è solo perché non si guarda più niente non si guarda più il costo del tessuto non si guarda più nulla avete visto anche la taschina col profilo è una delizia è una meraviglia fallo vedere il tessuto quello con quella costina meravigliosa guardate dall'altra parte semi elasticizzato fantastico è meraviglioso andiamo avanti Patrizia chiede sempre sul cappotto è caldo o è primaverile? no i cappotti sono stati fatti tutti in inverno quindi questa storia del caldo lo ridico il cappotto ha sempre lo stesso calore a meno che voi compriate un cappotto in casa mirà 2, 3, 4 mila euro se ci sono ancora perché magari sicuramente ci saranno è il tepore di un cappotto che per quanto vi possa garantire è comunque leggero morbido e coccoloso cioè proprio avvolgente dopodiché voi sopra lo potete anche doppiare con certo magari non è il capo che mettete quando nevi mi sembra il minimo ma quale altro cappotto mettete quando nevica fatemi capire non è la fodera che scalda anzi magari rende solo più pesante un capo quindi io vi devo dire sì per quanto concerne e per quanto può dare tepore un cappotto punto perché questa domanda si ricorre spesso io la risposta che vi devo dare è questo quindi pura lana secondo me nei cappotti non esiste quasi più sono quei tessuti chiamiamoli tecnici che oramai oddio ciao a tutte si è girata un'altra volta va bene va bene ha preso piede qualità assoluta non si stropicciano sono fatti diciamo in maniera come ripeto sartoriale questo ad esempio ha il cappotto scusate ha la fodera certi modelli va fatto senza perché comunque è un cappotto vestaglia deve risultare morbido capite questo ad esempio ha la fodera e poi ci arriviamo comunque che dire qualcuna di voi mi ha chiesto cosa c'è rimasto di questo xl e xxl poi sono finiti nel bianco e nero me lo confermi Cate avevo chiesto se c'era altro se non è salito non c'è altro non è salito non mi ha detto altro quindi è questo e poi abbiamo ancora sml xl qualsiasi li ho riassortiti quelli ci sono alcuni hanno l'interno verde e alcuni hanno l'interno bianco quindi chiedete siccome ragazze è un articolo che è andato a ruba e non solo questo poi nel fare un giro andiamo a vedere il resto vi dico che i gaucho che c'è solo qui una 40 una 42 sono rimaste 6 8 50 52 54 bellissimo anche in questo colore fate voi il vostro gioco ragazze sono in punto Roma sono bellissimi li avete visti indossati anche a Simone in un video 30 euro da oggi 30 euro questo calzone e vi garantisco allora adesso vi faccio vedere questa 42 quando lo mettete indossato arriva praticamente alla caviglia ok bellissimo con un maglioncino a 20-30 euro quelli che abbiamo sono francamente abbinabilissimi e portabilissimi in qualsiasi versione in qualsiasi occasione se volete mettere il tacco lo rendete un attimino più sinuoso se volete mettere un qualcosa di sportivo lo rendete più sportivo e pratico quello che volete tutti i gaucho punto Roma che è un jersey bello sostenuto e pesantino tutti 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 a 30 euro c'erano dalla 40 alla 54 voi adesso chiedete perché di questi non abbiamo giacenze colori verde rosso india beige coccio e tortora questi sono i colori ok a 30 euro ragazzi voi vi state abituando anche molto 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 bene a questi prezzi ok cioè cosa sono i 20 i 30 euro i 49 gli 89 cioè che cosa sono con capi di questa qualità ok abituatevi poi disabituatevi io ve lo dico sempre perché è vero che vi stiamo abituando molto ma molto ma molto bene dimmi gioia allora Graziella chiede se il verde si può abbinare a qualsiasi outfit anche questa è una domanda da mille e una notte cosa vuol dire qualsiasi outfit dimmelo tu sappi che dietro ha il nero di conseguenza va un attimino alle gare io questo con il bordo nero non lo metterei con il marrone per dirti starebbe bene ma magari ci sta anche bene quindi dipende sempre che cosa tu metti a richiamo sotto un outfit va magari leggermente richiamato con un qualcosa ma ti posso dire che se poi lo porti chiuso sotto a un cappotto ci puoi mettere qualsiasi cosa gioia diversamente io credo che a 49 euro ti prendi questo cappotto e tu lo abbini con quello che vuoi poi te ne prenderai un altro lo abbinerai a quello che vuoi e ne abbinerai un altro e lo abbinerai a quello che vorrai giusto per il prezzo così apriamo anche la parentesi di quelli che sostengono le spese di spedizione 139 euro 49 euro fate quello che volete io sono qui anche solo per tenervi compagnia dopodiché se volete provare la qualità gabrieste provatela su un cappotto così e questo o quelli a 69 o quelli a 89 è la stessa cosa questo è stato nel taglio precedente precedente e quindi considerate che ha il bordo nero in ecopelle e poi fate voi le vostre scelte dimmi gioia corina chiede gentilmente mi potete consigliare come lavare la giacchetta con le borchie grazie la giacchetta con le borchie puoi lavarla ad acqua eviterei di farla centrifugare faccio vedere per magari qualcuno è nuovo facciamo vedere qual è già che è qua metti le sue giuglie in un lavandino lavala e quando l'hai sciacquata la prendi la strizzi leggermente con le mani la passi in un telo di spugna quindi la tamponi togli l'acqua in eccesso e la metti sulla gruccia e la lasci asciugare questa è la miglior cosa da fare in tutta tranquillità così la lavi da sola non la fai stropicciare le borchie dovresti mettere in una cosa imbottita per non farle picchiare contro il cestello della lavatrice lavala a mano e penso che una smacchiata al collo sotto le ascelle su e giù detersivo poco e delicato basta e il gioco è già fatto il lavaggio è già avvenuto la indosso il giorno dopo io ho fatto così ho tantissimi buon pomeriggio ho paura a toccarvi ragazza perché se si gira lo schermo guai perché man mano si giro paura io anche se si gira lo schermo no devi essere tu se è bellissima cos'hai no no devi essere tu quindi c'è Clelia che chiede ciao ragazze vi seguo sempre è tutto bellissimo peccato che io ho 79 anni baci allora Clelia da brava non farmi cadere le braccia 79 anni cosa vuol dire io gioco a golf con una amica che ha questa età e quindi cosa vuol dire 79 anni sei il fiorfiore della vita ok perché siamo tutti lì chi può dire che domani ci siamo o domani non ci siamo no no toccati toccati dai ragazzi la vita è fatta di queste cose quindi che 60 40 50 30 79 cosa vuol dire mia mamma mi ha lasciato e aveva 83 anni e francamente tutto quello che io ho in negozio l'avrebbe indossato dai colori più vivaci ti direi subito che questo che questo capotto magari non so in questo colore se lo sarebbe presa per prima e poi cos'è che non metteresti non metteresti un abito così che arriva alla 54 un tubino meraviglioso che non segna niente le nostre camicie i nostri calzoni oh Clelia non voglio sentire queste cavolate quindi tu fatti mandare qualcosa un bel pantalone un bel tailleur tutto quello che vuoi pensi che qui in negozio allora noi devo dire che tra le altre cose potenzialmente la nostra fascia di età vai da va dai 30 agli 80 anni ecco ma no a volte vengono anche le nonnine un pochino più su accompagnate dalle figlie eh sì no non ho non ho limiti non ho limiti né vestiamo le ragazzine e le bambine di 11 anni basta che abbiano la fisicità da donna cioè io non pongo limiti alla provvidenza anche perché ragazze è solo una questione di testa e di personalità io credo che a 79 anni continuerò a vestire come resto ok amore dai Clelia forza e coraggio tre messaggini Brunilde tesoro io ne ho 84 verso Gabriese e molto bene Umbertina io ne ho 74 verso Gabriese e ne sono contentissima e Maia 79 anni vuol dire non mettere un vestito che indossi tu ecco guarda ho pieno detto meno male che le mie amiche ci sono e quindi Clelia vai parliamo di altre cose ok dati da fare non voglio scuse scegli qualcosina provalo e poi mi dirai ma ci mancherebbe altro è lì il bello che bisogna tenersi è lì il bello che bisogna apprezzare le cose e la vita cosa facciamo cioè finiamo prima del tempo mai e no quindi ringrazio tutta la nostra amica delle loro testimonianze posso dire di questo tailleur certo abbiamo tutti i calzoni sfusi dalla 40 alla 54 tessuto tecnico semi elasticizzato meraviglioso giacchina questo è un tailleur taglia 40 bello asciuttino veste giusto ma bello asciuttino giusto e 49 euro invece di 119 la giacca e 20 euro il pantalone sì francamente dai ragazze sai che non ci credono le nostre amiche a che tessuto è e che qualità è guardate la piega guardate la stiratura che neanche si scompone ma la vedete voglio dire è impossibile solo che hanno giù una serie ma si dai gabri dai questo dai quello qua l'abbiamo sterminato si può dire si è vero l'abbiamo sortito questa mattina non è venuto il nostro Ale sono andata io da lui a ritirare le cose ho trovato questi e ho detto assolutamente questi che sono a tailleur facciamolo 20 euro il calzone e 49 euro la giacca cioè mi viene male non è neanche il costo della giacca singola e abbiamo 40 46 e 54 cioè scusate se è poco scusate se è poco si è poco sono solo questi tre ma d'altra parte non li avremmo messi a questo prezzo quindi bimbe fatevi sotto fatevi sotto e accaparatevi queste occasioni pazzesche dimmi allora Anna scrive ciao Fatina ben trovate tutte ho capito chi è ma è tanto che non ti sento Annina tantissimo sei solo tu che mi chiama Fatina poi c'è un'altra Annina scuola guida buongiorno sono fanciulle belle ti seguo seguo tutti i tuoi post sei sempre meravigliosa nei tuoi selfie ma fatti sentire per tutto per tutto mi piacerebbe che ci troviamo una sera ma te lo dico da mille anni ciao Fatina poi Carla cerca un vestito nero non aderente al ginocchio quindi su ciao tesoro non aderente al ginocchio questo lo potete tenere su lo potete tenere giù potete tenere come come volete qualcosa di nero 50 euro abbiamo anche dell'altra linea insomma ragazze chiedete e poi su whatsapp cercheremo di mandarvi lo tiro su giù perché voglio farvi vedere che è un abito magico Patrizia chiede se puoi indossare la giacca sì allora la 40 sicuramente mi è pinta c'è il 46 così dove da anche ok 46 con questo abito io metterei la 44 di questo ve lo dico subito quindi però siccome vi dico sempre che porto via le tali a volte metto la 40 metto la 44 metto la 46 per farmela vedere ovviamente è mia un po' morbida ma anche se la portassi così voi direste che è una giacca che non sta bene no sembra cambiamo modello solo che invece di averla più sciancrata diventa un attimino più scolorata portandola di una misura in più quindi chi di voi ha un 42 pieno un bel 44 un 46 asciuttino misurina la mano e noi misuriamo e vi diciamo o sì o no ok è il modello della nostra giacca in crepe marrone verde e nera che abbiamo appena fatto con i due bottoni direi un modello di giacca che è andata per la maggiore perché non è lunga né corta vi ridico nuovamente il pantalone lo possiamo spezzare a base in base alla vostra necessità e poi vi dico tutte le taglie che abbiamo a tailleur c'è questo però se avesse bisogno di un pantalone una misura in più pensate che ieri la nostra melica per dire mi dice voglio il calzone anzi mi aveva chiesto una domenica sera alle 11 e mezza di sera così vi svelo anche hai gabri un pantalone elegantino bianco gli ho risposto no era sabato sera il lunedì mattina vado in magazzino guarda caso cos'è che trovo e vedo pantaloni bianchi allora mi sono ricordata questo lo faccio da 37 anni ragazzi cosa mi era stato chiesto quindi l'ho preso e ovviamente le ho portato un 48 puoi testimoniare melica se sei lì e ovviamente mi aspettavo un suo messaggio dove mi diceva mi raccomando vengo a provarlo c'è dimmelo da parte ma una 44 massimo massimo una 46 e io gli ho detto non preoccuparti vieni a provarlo ma per te la 48 è stata qui che non c'ero mi ha mandato il messaggio ho detto grazie Gaby misura perfetta vedi cioè io a distanza so quali sono le misure giuste ok in base a come avessi un capo o quant'altro giusto per dirvi la non mi sto vantando ma la professionalità che metto e mettiamo nel fare le cose ok quindi vi ho già premesso prima che certi capi restano di più di meno dovete solo aiutarsi prendendo le vostre misurine le mie ve le ho già prese l'altro giorno andate a vedere il video andate a vedere poi su whatsapp quando scrivete vi mandiamo anche la la vignetta dove imparate a misurarvi più che altro le posizioni di dove tenere il metro il centimetro ok allora questo io non ve lo posso indossare ma vi indosso quest'altro colore che è meraviglioso perché a proposito di professionalità buongiorno buongiorno io ho ancora le chat da rispondere indietro quindi ricordalo che queste attendono si va bene ah attendono queste fino a domani vabbè quando sei a casa mi chiami vai sapete che queste bimbe martellano quindi attenzione portate pazienza che vi rispondiamo con calma avete già sentito quindi abbiamo come dico sempre una testa due gambe due braccia cercheremo di e rispondiamo anche di sera come ho fatto io come fa il te come fa anche lei quindi insomma ragazze portate pazienza questo cappotto fodera anche questo costava 129 vedete che è più corto adesso ve lo provo in questo colore abbiamo solo una 46 una 52 ok a 69 euro 69 euro in questo colore meraviglioso che praticamente è il colore diciamo che quest'anno è andato per la maggiore anche questo vediamo sì come tutti quindi capite che mettere sotto 10 centimetri di stoffa in più per far sì che poi uno utilizza e fa il risvolto se piace oppure se non piace lo sistemate bene anche questo incide su un prezzo 129 euro un cappotto a prezzo pieno potrete dire anche voi che è niente bene in questo caso scontato a 69 euro ancora meno ok ragazze 46 e 52 ora vi indosso questo meraviglioso orchidea che se volete potete farlo a completo con questo colore oppure con qualsiasi sono spostata troppo in retta ok questa è una 42 ora ve lo indosso così avete modo di vedere la lunghezza quello che volete è il classico classico cascuttino doppio petto che qualora abbiate voglia di portare aperto o sdoppiarlo perché a volte magari per una questione di addome potete portarlo a chiamiamolo così monopetto forse abbiamo ancora la fortuna di avere qualche bottone da mandarvi in più come facciamo sempre vi mettete i vostri due bottoni qui insomma fate quello che volete ragazze noi vi coccoliamo vi viziamo di tutto e di più qual è l'attività che manda i bottoni in più alle clienti però se li abbiamo volentieri ovviamente non per tutte nel senso non è che lo facciamo quotidianamente ma quando c'è la necessità lo facciamo 42 48 50 e 52 abbiamo anche una borsa proprio del suo colore identico 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 a 49 euro andiamo a prenderla che dici ah poi qui abbiamo riassortito qualche stola non tantissime perché adesso arriveranno quelle nuove tutte a 20 euro guardate la meraviglia di questa guardate la favola di questa meravigliosa e la borsa è questa a 49 euro guarda se c'è un filo di differenza questa adesso è piena di carta quindi non è così voluminosa la riempite voi con quello che volete ragazze 49 euro sono proprio le ultime due rimaste ok questa è a parte ma tornando ai nostri cappotti 69 euro in questo colore ragazze è fantastico sai che c'è qui anche un abito Kate che è una L si potrebbe fare a completo con questo con questo cappotto o anche con l'altro adesso vado là e lo faccio vedere perché questo abito è un po' che non ve lo mostro a 50 euro ragazze questo cappotto e parliamo di una taglia 50 52 54 ok abbiamo qui i cappotti quindi se volete per una 52 facciamo l'abbinamento quindi 50 euro l'abito e 69 euro il cappotto che indosso questa è una 42 poi ripeto 48 50 52 in questo colore bello bellissimo tutto foderato verso stella 69 euro l'ultimo da pazzi da folli ma va bene così posso anche indossarlo ve lo indosso questa 46 questa è una 48 cappotto vestaglia sempre nel filato velour quello che ha praticamente vedete quella costina meravigliosa 69 allora ditemelo voi lo vedete costavano 139 69 euro un unico taglia 48 adesso indosso questo color pavone che è una 46 io metterei la 42 la 44 ma se vi faccio vedere anche questa 46 alla fine le spalle si portano bene adesso io ve lo porto sormontato giusto per farvelo vedere ho sotto proprio un abito di maglina quindi se avessi sotto anche magari una giacca un maglione spesso insomma vedetelo voi è qui da vedere è una meraviglia è praticamente facciamolo vedere noi a noi è rimasto solo questo un 50 un 52 quello tagliato qualche mese fa varia il diciamo la finitura della manica la lunghezza è la stessa gli spacchi anche tessuto allo stesso tasche forse sì sì certo il modello è un altro sì sì proprio però ecco ci sta per modo di dire insomma costavano entrambe 139 euro 69 euro vi ridico la taglia di questo colore 46 e 54 eccolo qua l'ho abbinato con questa bellissima stola che diciamo abbiamo ripreso ieri guardate qui adesso ormai anche ai nostri fornitori sta pian pianino rigenerandosi il tuzzo e arrivando gli articoli nuovi dimicate da dove passiamo perché qui io vi ho detto tutto tutto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto facciamo vedere gli altri pantaloni a 20 euro sì 40 44 48 qui manca solo la 6 e che cosa è questo a 20 euro è quello con il fondo riassortito questa mattina perché sono andati tutti allora fondo verde vedete beige e rosa antico dalla 40 alla 54 ci manca solo la 46 ok poi andiamo magari di là bimba e vi faccio vedere il resto questi abiti 42 e 54 se qualcuno di voi lo gradisce ancora a 39 euro adesso diteci perché facciamo che facciamo un po' il giretto e magari poi ci dite dalla 40 alla 54 anche qui manca la 46 e poi abbiamo tutto a sigaretta non è quello che indossavo io la volta scorsa ma è quello a sigaretta se volete nel prossimo giro ve lo indosso perché il calzone a sigaretta è quello che sempre 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 va questo fondo guarda qui che si vede bene alla luce questo è un verde un verde un bel verde bottiglia potrebbe essere anche salvia perché poi sfalsa in base al discorso del bianco e del lilla dalla 40 alla 54 vabbè facciamo vedere così si possono abbinare alle nostre maglie che ormai sono proprio gli ultimi pezzi queste a 39 euro oramai sono rimaste molto disassortite 42 50 e 52 con diciamo la manica e poi c'è il top smxl senza manica sempre bellissimo ragazzi a 39 euro e lo potete abbinare un po' con tutto ditemi voi se qui c'è qualcosa cosa è che ha messo qui ah ecco parlava di abiti neri l'amica di prima non so questo è una 44 bel tubino questo in questo modello è un xl quindi è un 52 54 perché è della malandrina quindi anche questo potete prenderli e abbinarli sotto ai cappotti a 49 euro mamma mia vabbè se c'è qualcosa che avete visto se c'è qualcosa che vi interessa sapete che tutti i nostri cappotti sono è questo a 69 euro ragazze cosa devo dirvi lo appoggiamo qua che se qualcuno di voi ha piacere di provarlo è stupendo i nostri bon ton che continuiamo a riassortire partivano dal 40 alla 54 a 69 euro quindi da 119 che era sono una cosa incredibile questo lo tengo perché poi magari o c'è qualcuno che lo vuole rivedere indossato magari che è arrivato adesso indossiamo cate allora la mia cate dove l'hai messa solito posto tu sarai mio supporter allora bevo grazie tanto io solito io e lui siamo io e lei siamo rimaste sempre io e lei così facciamo vedere anche gli ultimi colori delle piumettine a 6 euro giusto queste esatto ragazze se devo andare a comprarvi dei colori che chiedete ovviamente tornano al prezzo di 10 ma lo sanno ok però questo abito è una meraviglia l'avevo indossato con uno stivale marrone stupendo il nostro bon ton quindi abito 39 euro bon ton meraviglioso in quattro colori 69 euro la nostra amica ci dice va su tutto vanno le cose giocate di fantasia queste noi abbiamo messo le caramelline abbiamo messo la spillina vedete guardate come cambia per dire un outfit pensando di metterlo magari col cappotto verde che vi prendo da qua io l'avevo abbinato così questo ed è delizioso cappotto a 89 euro vedete questo invece l'abbinato col giacchino corto è burro e il completo cambia completamente cioè quando voi avete le cose nell'armadio potete poi giocare fare tutto quello che volete amica mia capite cioè vi destreggiate voi c'è ancora ma io di questi c'è qualcosa giù ancora giù d'ale cate li ho visti stamattina ma non li ho presi c'è qualcosa giù sì 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 se le nostre amiche ti chiedono mi avevano detto che erano finiti io ho chiesto lo stesso infatti un 44 l'ho trovato e l'ho partato ecco ci sono secondo me li ho visti ma non li ho non li ho puoi sapere che c'è qualcosa dopo proviamo ma se avete necessità del abito che indossavo l'altro giorno a 30 euro chiedetelo qui ci sono quelli come quello che indosso io che è una meraviglia lo potete tenere più giù più su io continuo a farvelo vedere su e giù perché così avete modo di vederlo a 49 euro e nero e in questa fantasia ma sono pochi però arrivano questo mxl xxl quindi se vuoi 44 46 48 50 52 54 con questo abito ci sta perché lo si gestisce un attimino in larghezza e se le nostre amiche vogliono il prossimo giro ragazzi io l'ho riassortito ho comprato una 40 per indossarlo io al prossimo giro vi indosserei questo perché abiti così a 39 euro abbiamo cercato di riassortirli lo avete visto nel video cammello l'avete visto nel video sicuramente anche bianco anche nero questo colore questo verde olio non ve lo mai abbiamo anche qualche calzone la 30 euro questo 39 euro ve lo farò vedere magari indossato vi invitate mi stavi dicendo in lista avevamo solo la giacca con la limarrona da provare che diceva che è uguale a te come fisico ha solo leggermente meno seno poi è uguale si vede uguale meno seno allora ce l'hai la 40 no ho la 40 cioè non lo so 42 44 la ducchiate 40 non c'è proprio pensato assolutamente no non sapevo i centimetri sì però dire fisico come il mio non mi dice nulla hai capito non avendo i centimetri come posso fare io ho 93 94 di seno 78 facciamo così di vita e 98 di fianco dobbiamo essere uguali quindi se hai qualcosina più di vita o ci devi dire con che cosa porti la giacca io la porto sempre a pelle se tu ci metti sotto un maglioncino ci può stare anche la 42 tranquillamente quindi il dire sono come te a meno che tu sai le mie misure diversamente noi dobbiamo comunque misurarvi e misuratevi giuste ragazze giuste bellino questo è come avere un copritutto un cardigan è un cappotto a tutti gli effetti però 49 euro se non è meraviglioso ragazze ditemelo voi questi boom cioè questi proprio boom è rimasto 2,40 boom lo ridico c'è di là il magazzino pieno di questi da spedire ok a soli e beh ragazze vi capisco 49 euro è una meraviglia questo bouclé meraviglioso con questo con questo tessuto vedete con questo pelino argentato che fa un po' di cangiante riesci a vederlo si appena appena ecco è meraviglioso e colore questi sono due rosa e qui invece avevamo più l'assortimento qui abbiamo questo ma c'è più assortimento quindi dalla 42 alla 54 li abbiamo chiedete perché ragazze se già vi abbiamo svelato che andrà il verde e quindi i verdi ce ne sono dentro almeno 4 o 5 a parte che va sul panna a parte che va sul grigio a parte che va sul blu a parte che va sul nero ma sicuramente anche questo lo provete adesso lo togliete a maggio lo portate adesso magari come interno come copre tutto come vi dico sempre io e poi lo portate esternamente in stagione dimicate Lucia chiede vorrei vedere l'abito che indossi tu nero l'abito che indosso io nero lo vedi addosso non so fammi capire gioia che taglia hai non lo so è qui da vedere indossato quando hai il nero abbiamo un po' di taglia abbiamo fino a taglia 54 quindi io lo sto indossando non so cosa intendi dammi la spiegazione e poi ti rispondiamo immediatamente cosa dire di questi cappotti c'è qualche assortimento nel nero io non ho paura di aver detto di no un giorno può essere giusto per intenderci che qualche assortimento di questo nel nero secondo me quello che c'è di meno è questo colore il panna dovrebbe esserci ma il nero lo abbiamo anche questo è il cappottino 7 ottavi a 69 euro anche questo qui vedo che c'è dalla 40 alla 54 sicuramente magari manca qualche taglia in mezzo se ti rispondiamo questa riga dell'altro adesso io controllo magari purtroppo può capitare che i messaggi non li vedi Cate però se non rispondiamo non voletene è perché magari sfuggono non è facile l'ho detto l'altro giorno quando ho preso il mano di telefono ha ragione a Cate a dire che i messaggi non si riescono bene a mantenere cappotto 69 euro dalla 40 alla 54 poi ragazze chiedete perché di no Lucia ha risposto dice sono una taglia 48 50 però se veste aderente è anche 50 secondo me Gabriele vuole sapere se c'è la taglia perché è scritto così se no non è se mi avevo detto di sì quindi deve stare anche su potete sempre prendere e mettere anche una cinturina tranquillamente poi è bello che segni un attimino questo abito perché se me lo porti largo ti cade giù e ti devi mettere una cintura e te lo gestisci come vuoi tu comunque abbiamo sì sia la L che la XL che la XXL c'è la tua misura giraci le tue misure e poi ti aiutiamo noi a decidere che taglia darti ok d'altra parte un abito o vesti a sacco e a questo punto metti una cintura se no se lo vuoi vestire a sacco lo porti praticamente più lungo più largo e te lo porti lungo così va benissimo anche quello potete fare questo vedete è un jersey potete fare veramente tutto quello che volete sono qui mi sono arenata in questo angolo però direi che va bene Cate no? sì ho Anna Fatina scusa Gabri il cappottino che indossi fino a che taglia e che prezzo ma sei arrivata adesso Anna mi stai ascoltando perché è un po' che sei qui un po' che sei lì e l'ho ripetuto già cento volte questo cappotto 49 euro dalla 40 alla 54 manca forse solo nell'azzurro la 54 ma tu dovessi avere una 52 se ricordo bene in base a come eravamo rimaste Fatina mia eh anzi sono io la tua Fatina quindi scrivi 49 euro il cappotto che indosso l'ho rindossato adesso magari è arrivata dopo vabbè di questo colore vuol dire che è finito Cate abbiamo solo questi esatto questo ha fondo nero e vedete il coccio il beige facciamo vedere le nostre amiche 20 euro abbiamo 40 42 54 potrebbe darsi che dovremmo mandarvi anche una misurina in più non è detto perché insomma l'ultima giacca in bengalina taglia 42 a 49 euro ne vogliamo parlare? cioè l'ho beccata adesso quindi io ve la faccio vedere l'ultima giacca bengalina 42 ragazzi 42 44 gestitevela poi voi eh due o tre giacche ancora e si potrebbe fare anche un completo eh a 49 euro e il calzone a 30 euro è ancora una meraviglia un completo taglio 52 cosa dite? oppure 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 utilizzate questo colore e quell'altro giusto? c'è il fondo verde ma sempre no qua è rosa quindi se dobbiamo abbinarla a questa giacca dobbiamo fare per forza questo colore ok? perché richiama il colore della giacca quindi 20 euro il calzone e 49 euro la giacca assolutamente quindi mi capite allora sto rispondendo a Lucia perché scrive ok ti confermo la XL ti mando le mie misure su Messenger no sto scrivendo di no mi scrive su Whatsapp ragazze ma dai aiutatemi ad aiutarvi cosa c'è entra al Messenger allora grazie Simo è arrivata la mini boss a scrivere anche lei uguale se lo mettete di io cioè cercate di capire si arriva dappertutto ma non posso arrivare a vedere cioè noi lavoriamo su Whatsapp Whatsapp e se scrivete su Messenger poco importa vi arriva la nostra scritta dove vi dice dove siamo come siamo che ora apriamo cosa facciamo e dove dovete scrivere quindi leggete e vi indirizzate sui due numeri che trovate anche lì cioè è impossibile cioè mi arrivate puff così ok ragazze quindi Whatsapp è il vostro camerino personale ok ma quando scrivete a un figlio o a una figlia o a un'amica o a un amante o a un marito tutto quello che volete chiedete ok lì girate comunque vuoi le XL ma girami lo stesso le tue misure perché io a scatola chiusa non mando nulla anche al gol mi dicono ma sei curiosa perché non tengo gli occhi sulla pallina è vero voglio correre io vedere dove va prima del tempo e sbaglio perché il tiro non viene giusto quindi non è questione di curiosità ma è questione che in base alle tue misure tu mandamme le giuste e poi io decido oppure mi dici ho queste misure ma lo voglio largo e allora ci ragioniamo ok considera che con una XL doppia XL vi stiamo anche una 54 non so che tagli hai tu amore mio misure alla mano e ti consigliamo ecco dovete solo dire non voglio la cosa che segni non voglio la cosa inciuciata la preferisco più morbida allora ci date l'orientamento perché è giusto sentirsi sapete che in mozzar ci sono anche i vocali diventa tutto più facile insomma ragazze lì ok se mi vai a scrivere dall'altra parte resti lì questo è quello con il fondo nero sempre ma con il fiore con il diciamo il pallino rosa antico poi ragazze anche se me lo mettete qui diciamo che non non stona 40 46 48 50 52 54 li ha sortiti stamattina a 20 euro questi calzoni tessuto tecnico semi elasticizzato meraviglioso dimmi Cate Patrizia vorrebbe vedere i vestiti bianchi dietro di te sì stavo guardando che qui ci sono dei pantaloni a palazzo belli anche questi a 39 euro che sono una meraviglia ragazze 40 42 44 46 lo aggiungo io perché tutti i nostri calzoni sono finiti con l'elastico in vita vuol dire che la nostra amica non ha mai visto questo abito allora lo trovate indossato a me in parecchi video l'ho indossato verde voi andate sulla pagina poi o mettete foto o mettete o scegliete video e andate a vedere tutto pagina il sito www.gabriessamiliamentodonna.com il nostro canale youtube che è a grande successo andate lì vi iscrivete ovunque trovate i video e ovunque trovate i capi che indosso o quelli che mostro ok costava 69 euro scontato a 49 lo vedi indossato a me è una delizia 49 euro bianco nero non sono più ah ecco brava adesso l'ho sfilato non sono più tantissimi però abbiamo nel nero vediamo un po' se riesco a fare altri danni 40 42 50 e 54 perché questo abito in natura partiva dalla 40 alla 54 a soli 49 euro il bianco strepitoso stravelluto cioè questo lo porti da adesso lo porti anche in estate in estate alla sera con questa manica è perfetto è un abito che io stesso ho portato in queste sere uscendo quindi lo porti adesso è stato tagliato adesso ma 49 euro è una meraviglia se vuoi andare adesso lo appoggio qui se vuoi andare a vederlo indossato lo vedi e è veramente veramente delizioso i calzoni che vi ho fatto vedere prima a 20 euro uguali alle giacche che là abbiamo 3 tailleur qui li trovate anche 42 44 46 48 50 52 54 assortiti a 20 euro non so volete fare un pantalone così con l'ultima giacca così io adesso non sto a farvi gli outfit in questo momento però potete fare tutto lo prendete lo mettete sotto un cappottino così fatelo ragazze potete fare davvero qualsiasi cosa e questo calzone a 20 euro è quasi ha quasi dell'incredibile guarda 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 che c'è qui anche la camicia adesso tolgo il cappotto perché comunque viene caldo ah dell'incredibile vogliamo fare questo abbinamento si vede bene questa camicia doppiata davanti in jersey meraviglioso con la manichina con l'elastichino guardate la meraviglia stupenda scontata da 59 a 39 euro prendete e mettete la sulle ci siamo perché si non mi piace la luce e ora vieni di qua usciamo da lampasse e tolgo anche il cappotto ok sì perché fuori in più non c'è nemmeno il sole quindi magari può scaturire una luce diversa 20 euro il calzone e 39 euro la camicia la camicia dalla 40 42 44 46 a 39 euro nera bellissima stupenda e meravigliosa i calzoni ve l'ho già letto poi fermiamoci qui un attimo perché io ho riassortito ancora due di questi abiti queste caramelline non sono tutte qui eh Cate no no io ho messo di colori mamma mia quanti colori abbiamo riassortito tanta non meschiarmene no no non te le meschio non te le meschio cioè guarda che che scala di colori cioè ragazzi una meraviglia una meraviglia qui potete decidere voi che cosa fare è antistress sì aspetta che ti sposto questa che ci ha parlato perché è vero Cate l'ordine è antistress è antistress è anche metà la porta sì peccato che ho tante altre cose da fare comunque sono stupende sono cristalli ragazzi sono cristalli da 6-8 euro e sono arrivati tutti i colori nuovi quindi abbiamo riassortito anche il fucsia il lilla il gris cioè guardate questa manata qui che non è meravigliosa ah Cate c'è le specie ma vabbè tanto pensi che durano così non possiamo lavorare con le cose superordinate anche perché poi ci è molto difficile cosa che volevo dirvi ah sì questi due abiti ho trovato ancora un 42 e un 52 mentre invece nel colore come il cappotto che vi ho fatto vedere che chiamiamolo puffo chiamiamolo quello che è sono rimasti prevalentemente 52 o sbaglio è un tubino strepitoso ragazzi a 30 euro quindi se vi concentrate un attimo e vedete i prezzi che abbiamo come questa camicia sempre a 39 euro 40 44 46 52 sono attente le mie amiche sì ho due o tre messaggini Gabri che chiedono di spedizioni altre cose ho spiegato già di scrivere su whatsapp perché se no non ci concentriamo si anche perché non possono in caso dipende dove abitate come pagate tutto quindi come pagate quindi ragazze scrivete su whatsapp e a questi prezzi voglio dire una spedizione ordinaria normale sono 8 euro dipende se siete sulle isole diventa dove siete dipende se siete in Europa spediamo dappertutto e sono vi arrivano i capi in 24 ore quindi provateci provateci ragazze ora o mai più con questi prezzi è una cosa pazzesca anche perché io veramente ragazze non so cosa dirvi non ho mai avuto c'è venuta una persona stamattina e mi dice ah il negozio è pieno certo vedessi questa mattina avete presente l'immagine di quando scarico col cappello con il celofan col sacco nero e voi mi dite staresti bene anche con quello perfetto veniva un'acqua ho scaricato di nuovo mezza vettura e l'altro giorno avete sentito Ale quindi continuiamo a riempire per svuotare riempire e svuotare in attesa dei capi e della nuova collezione 30 euro questo è l'ultimo rimasto ma proprio l'ultimo in Italia 40 in Bengalina chi di voi ha voglia qui abbiamo sortito sono le ultime non ce ne sono più 40 42 54 questa maglia ragazze che è strepitosa poi voi state attenti a quello che vi faccio vedere andate a rivedere per dire abbiamo lì le giacche nere da fare a completo in crepe a 49 euro abbiamo scontato tutto anche gli ultimissimi messimi capi appena 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 tagliati cosa devo dirvi più di così dimmi capi allora abbiamo Palma che chiede cappotti grigi taglia 48 no grigi non ne abbiamo nemmeno mezzo ce lo dico subito è un colore che non siamo riusciti di avere come tessuto e speriamo che arrivi tutto bene tutti i tessuti perché con quello che sta succedendo quel benedetto canale lì che ostruisce non sta facendo ogni volta ce n'è una ma insomma penso che ci siamo portati avanti abbastanza quindi il grigio è un colore che non abbiamo avuto in questa stagione poi abbiamo Rose che dice per piacere fai vedere le pellicce di vario tipo con e senza maniche pellicce di vario tipo sono quelle due là e poi adesso ci andiamo andiamo a vedere andiamoci a un secondo perché poi io fortunatamente tutti i capi pesanti li abbiamo praticamente esauriti però rimangono due cappotti molto molto belli e due gilet uno verde uno fucsia stupendo meraviglioso che posso indossare anche su questo abito ragazze questo è l'abitino che vi ho fatto vedere l'altro giorno che vi ho promesso che avrei indossato con dopo ve lo faccio vedere con i ruggi vedete così alla manica doppio a 30 euro credo che questa sia una 40 poi abbiamo qualche colore là ma anche questo lo prendete lo mettete sul nostro cappottino bonton a 89 euro fatelo è un gioco ragazze ma anche questa ve la devo far vedere è una L l'ultima rimasta però questa L è in questa casa direi che è una bella 50 sicuro 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 ve la andate a mettere magari su un abito nero su una camicia che vi ho appena fatto vedere perché no anche con questa vedete la abbinate sopra fate l'abbinamento così che è una delizia sotto una gonna un pantalone vedete voi cosa volete fare amori miei belli dolce creature mie e è stupendo questo può essere un copritutto una cosa che mettete sotto i cappotti una cosa che vi fa da manica una spesa di giacchina golfino quello che volete allora Stefania ci scrive che da lei c'è la neve ed è una meraviglia questa mattina tra un diciamo uno scroscio e l'altro si è intravista ma ragazze sicuramente non dura perché 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 settimana prossima avevo anche alte temperature quindi va bene così siamo un passo fuori tutto un passo fuori intanto prendete tutti questi capi scontati che sono tutti quelli invernali anche se sono coloratissimi in attesa di quelli nuovi ok ragazze a questi prezzi poi non trovate più nulla dimmi poi c'è Maria sempre dolcissima sento di mandarvi un abbraccio bacio a tutte amore Maria un abbraccio grande ho capito che Maria è un abbraccio grande spero sta bene Maria poi dovresti vedere lo sguardo dolce che accade in questo momento e mi sciolgo so che mi vuole ti vuole molto 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 bene anch'io perché so tutto quindi 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 o guardavo se c'era qualcuno che bussava arriviamo a questo abito in maglia meraviglioso è quello che io indossavo rosso il giorno di Natale quindi leggermente sciancratino morbido filo ginocchio bianco io non lo so che cos'ho con quel bianco che vengo attratta dal bianco è bellissimo il bianco e tutte voi volete il bianco bianco quindi vestiamo un 42, 44, 46 in maniera più diciamo così aderentina la nostra giacca copritutto a 39 euro qui anche la donna vedi che così si sbizzarisce a fare tutti gli outfit perché questo poi lo tenete dentro è un copritutto con questo abito che è caldissimo 30 euro scontato questo 39 euro è una meraviglia vedete che ha dentro il filino dorato riesce a farlo vedere perché è una meraviglia vediamo si riesce si 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 muove appena appena il telefono è impercettibile ma è meraviglioso finissimo con questo pelo a 30 euro guardate qui come doppiare e rendere femminile un capo che poi portate anche con uno stivale con tutto quello che volete andiamo a farvi vedere questi manichini allora qui abbiamo che cos'è questo il nostro leggings che abbiamo riassortito nel nero forse abbiamo ancora uno per taglia e poi è finito a 39 euro in jersey come l'abito che vi ho appena fatto vedere bianco ok la nostra camicia meravigliosa quella e abbiamo assortito eh ragazze stamattina oggi non mi sono dimenticata abbiamo riassortito il nero il bianco il viola il viola è più assortito però insomma chiedete su Zab le taglie che vi diremo questa bellissima camicia con la manica lunga e anche diciamo la fettuccia che si può arricciare col bottone a 39 euro e questa meraviglia qui scontata a 99 Cate vero sì da 169 a 99 euro questa è tutto un pezzo praticamente non è staccabile il collo ma quanto è meraviglioso me lo prenderei me lo indosserei in questo momento per far vedere la nostra amica qua l'ho fatto un po' a palloncino con la cintura da nodare adesso la legata dietro quindi lasciamolo così 39 il leggings 39 la camicia e 99 il pezzo sopra ah va 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 non sapevo che ne avevamo ancora uno Cate quindi questo è un abito S che avrei sempre voluto indossarvi guardatelo qui che meraviglia che è questo è un 42 44 stupendo e questo andiamo a vedere che taglia è ma anche questo è malandrina quindi 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 è sempre una L quindi una 50 52 a seconda 48 a seconda di come lo volete abbinare in base alle vostre misure vi consiglieremo questi sono i colori rimasti dei giacchini S che la porterei io quindi vestiamo la S fino a una 44 tranquilla Tate 46 anche sì sì ecco perché con la L arrivavamo anche una 50 52 quindi i colori sono questi sono eccezionali prendetevi e lavateli come vi abbiamo insegnato prima li vedi sì bene perfetto qui abbiamo tutta la nostra maglieria a 20 euro questa se la dovessi solo indossare vedo che non hanno accolto questa forse la taglia sono 2,40 dire la verità però ragazze non se ah no una 40 e una 42 quindi non sempre possono essere fortunate solo le morbidose qui abbiamo di tutto un po' per sbizzarrirsi e per avere un attimino tutte diciamo le offerte per tutto addirittura questo è arrivato ieri l'abbiamo messo ugualmente a 20 euro golfino golfino azzurro golfino viola aspettate un attimo perché questo ecco allora questi tre colori scollati a V e a giro collo lo abbiamo aspettate un attimo che ce n'è ancora uno quindi basterebbe tanto poco come per insieme era rosso, nero e panna giro collo sì qui è rimasto solo 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 rosso a 20 euro come tutta la maglieria e poi qui abbiamo nero viola e due azzurri meravigliosi ragazze avete sentito il nostro aree che arriva anche l'azzurro quindi a 20 euro accaparatevi il golfino bene cosa abbiamo qui i nostri non sto a fermarvi a farvi vedere tutte queste cose chiedete questi sono i nostri completi il nostro trittico coccoloso dove trovate praticamente qui alla donna è successo qualcosa si è abbassato la gruccia quindi vabbè poco importa calzone maglia e cardigan 30 euro 30 euro e 39 euro il cardigan ricordami di dirgli che lo dobbiamo alzare soprattutto non mettere qui i pesi così pesanti cosa devo dirvi questo colore qualcosa nel panna ma panna è rimasto solo il girocollo e poi abbiamo cardigan cardigan neri un cardigan bianco cardigan nero è assortito anche questo ragazze se avete voglia di farvi un cardigan a 39 euro avete tempo adesso per portarvelo anche in esterno in primavera e qui se vogliamo dirla tutta gli ultimi assortiti ma proprio ultimi ripeto i tagliar sono ho trovato questo 46 se interessa a qualcuno quello che indossavo la giacca io l'altro giorno con l'abito marrone quindi potete prendere anche l'abito sotto che c'è in dettaglio 50 e anche altre misure questo bellissimo colore 46 52 54 poi abbiamo questa è una giacca sfusa 54 verde e una giacca sfusa da buttare su tutto possiamo metterla qui poi abbiamo 52 54 54 54 nero 59 euro la giacca ma ragazze guardiamola che giacca doppio petto con la punta punto roma quasi quasi si potrebbe prendere anche un gaucho a 30 euro e buttarcelo sotto quindi poi gli abbinamenti noi ve li facciamo 59 euro la giacca e ho paura aspettate che devo guardare la taglia 30 euro 30 euro il calzone mamma mia 30 euro il calzone guardate arrivare fino alla taglia 54 ma cosa aspettate morbidosa a portarvi via questi completi fatemi capire perché sono non belli di più qui abbiamo 40 42 e 54 il pantalone sfuso punto roma e 52 e 54 la giacca ultimi due pezzi anche questi riassortiti vi ricordate il cappotto senza maniche bene a 59 euro da 129 che era con la fodera proprio un cappotto senza maniche amore quindi vestitevi come volete un 48 abbiamo due 48 cappotti bianchi li avete già visti tutte le nostre gonne a portafoglio in eco dai netto guardate qua scontate a 39 euro queste stanno bene nelle taglie morbide nelle taglie più basse la portate sotto a tutto ragazze i colori sono meravigliosi la portate anche in primavera 39 euro fatele man bassa dico man bassa io continuiamo adesso dire ah tu vuoi far vedere le spilline a 6 euro allora nella speranza di non smontare la lampada guardiamo qua tutti i colori quanto belli sono vedete sono ah questo rosso antico anche bellissimo grigio questo beige insomma ragazze fate il vostro gioco scegliete quello che volete e e avrete nel cassetto tutto quello che magari giornalmente vi può servire allora cosa voglio farvi vedere ho riassortito questa camicia 2 4 6 8 50 52 54 quella che indossava Simona l'altro giorno questa è riassortitissima a 39 euro visto che è torna in auge anche questo colore a 30 euro questa camicia però abbiamo solo 42 46 e 50 perché no un bel azzurro così ve la mettete con il jeans ve lo mettete sotto al taior marrone sotto al taior nero sotto al taior quello che volete sotto il cappotto che vi ho fatto vedere prima che poi magari vado a rimettere nel bluet 30 euro abbiamo solo 48 e 50 ok eh beh anche questa non scherza questa potevo anche prenderla e metterla e appartarla guardate qui 50 euro da 99 euro cioè cosa vi devo dire in un certo vi voglio dire la taglia è una XL quindi questo qui è un 52 è un 54 sì è bellissima ragazze potete prenderla e metterla anche col calzone magari rosa sotto che abbiamo lì in crepa a 30 euro potete metterci il marrone potete metterci il nero potete metterci il blucina fate quello che più vi aggrada eh qui cosa devo dirvi mh le taglie di questo scusate mi giro esatto vengo di qua le taglie di questo abito che sicuramente c'è 40 42 che è qui 40 42 e 52 quello che vedete indossato sul manichino a quanto lo diciamo Kate 30 euro c'era il nostro tesoro che aspettava il discorso della ah guarda che c'è qui allora stendiamo un velo pietoso sempre quelle taglie forse l'ha messo qui perché era un tagliere questo invece è sfuso sì allora cerchiamo di comprendere anche così questo è un 46 a tagliere ok però la nostra amica Kate puoi fare quello che vuoi perché abbiamo ancora una taglia 40 ok quindi tu l'avevi messo 42 44 sì se avesse esattamente le mie misure considerando che questa giacca è sfoderata è in crepe e soprattutto ha una vita morbida Kate vedi sì 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 se è come me gli puoi dare anche la 40 ok se poi lei ti dice voglio metterci sotto un maglioncino considera una 42 abbiamo dimostrato che ho messo anche il cappotto taglia 46 e morì ok quindi questa è una 40 abbiamo anche la 42 e anche la 44 ed è tua vita poi abbiamo la 46 la 48 50 52 e 54 quindi nel marrone possiamo dire di essere assortite e scusate se è poco io il marrone sono più di 30 passani che lo vendo ma da sempre 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 non è mai mancato una stagione e trovo che tu anzi sapete cosa ho fatto io ho preso la giacca perché ho a casa un pantalone a palazzo che ha tre anni è lo stesso marrone è lo stesso tessuto e io l'ho abbinato un pantalone a palazzo e faccio un tailleur meraviglioso vedo che stai guardando si stavo sbricciando le collane ok le collane le andate che non si chiamano collane ma sono gioielli per la vita sono tutte in pietra semi preziose tutte sapientemente disegnate e montate a mano le andate a trovare su su whatsapp quando ci arrivate c'è la voce catalogo andate andate a vedere tutto io la tenerei anche su un attimo questa giacca perché è fantastica la potete abbinare un po' con tutto con tutto cosa? purtroppo questa gonna è rimasta solo una 48 48,50 in tulle elasticizzato del nostro Made in Brescia a 49 euro vedo che sta arrivando la doni questa a 30 euro quei pua ragazze è una meraviglia la potete abbinare sotto tutto quello che volete anche sotto un abbinamento così è stupendo ci mettete la scarpa giusta questa arriva fino a una taglia 54 e questa 48,50 magari anche 52 portate un attimino più fasciata l'ultima ultima 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 30 euro ragazze questa è piaciuta tantissimo non ne abbiamo più però ve la faccio vedere questo tubino meraviglioso considerate che qui abbiamo anche le maglie similari da buttarci sopra a 20 euro quindi con 50 euro vi fate un bellissimo completo veste una 42 44 anche 46 se la volete un po' inciuciatina e qui l'ultimo gruppetto di abiti è rimasto anche a rosso che poi va anche più avanti come l'abito bianco che vi ho appena fatto vedere a 30 euro questo lo indossavo io è una meraviglia facciamo vedere che ne è rimasto ancora uno scolato davanti io ho fatto l'inverno con indossati questi abiti poi ci metto sopra il cappotto come quello di oggi ci metto sopra una giacca così cambio il sopra metto il giacchino con le borchie cambio il sopra metto un biker e io sapete che non ho ancora messo un collantio questo inverno con il biker il calzettone sotto dai Kate non ridere la grossa calza il calzettone sotto e l'ho portato così in vari colori adesso è rimasto solo nero ma chi di voi lo gradisce a 30 euro scusate non posso riprenderlo doppio se no lo prenderei ah sono rimasti solo questi solo questi due a 30 euro questo che è una meraviglia quindi arriva al ginocchio è un abito a tubino con questa costa che non 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 segna modella ma non segna con questa scollaturina qui sul decolleté che è un bijou un bijou un bijou un bijou caldissimo molto molto bello molto molto morbido tutto a 30 euro eh che dire ragazze adesso vi faccio vedere che qui sto indossando sì la 40 di questa l'abbiamo appurato abbiamo risposto alla nostra amica e va bene così però magari vi è passato così non l'avete considerato non lo so siccome è un tagliore anche questo in crepo una crepa è primaverile che in sostanza ha qualche come dire grammatura in meno di tessuto ma insomma ragazze io vestita come sono oggi quando vi dico che indosso una 40 42 44 questa è una 40 ok la potete mettere sull'abito ha anche il suo calzone quindi vi andate a fare anche un bellissimo tailleur poi saranno i colori che arriveranno quindi qui c'è rimasto una 40 e una 46 vi prendete il completo dopodiché vi vedete tenete quello che volete sfuso potete prendere un calzone blu sotto che è questo questo ha praticamente lo spacco davanti c'è blu c'è nero questo è nero c'è blu ok fate quello che più vi aggrada ragazze ha 30 euro i calzoni e 49 euro la giacca e 30 euro il suo calzone quindi più di così non so che cosa vi posso dire ci sono le nostre amiche sono attentissime spero che scrivano su whatsapp che non si perdono queste bellissime occasioni come questo abito che essendo sì in lana in maglia è stupendo ha questa bellissima stola meravigliosa a 30 euro con la taschina ragazze 46, 48, 50 44 potete portarlo con la cintura un bello stivale fate quello che volete 30 euro neanche il prezzo della stola c'è nero c'è rosso c'è cammello pochi pezzi ne avevo presi tantissimi perché credevo in questo prezzo vi faccio ancora vedere ragazze il calcione esattamente nel colore del cappotto che uno può fare anche cappotto e pantalone fare già un completo questo è quello che ha lo spacchetto all'interno vedete in crepe a 30 euro 44 e 46 questo è lo stesso colore del adesso lo tengo così vado là mi metto il cappotto glielo faccio vedere poi questo bellissimo pantalone questo è a sigaretta lo abbiamo e a sigaretta e a diciamo così zampetta con lo spacco con lo spacco interno 46 e 48 54 in questo colore che è quel color olio meraviglioso e qui abbiamo 6 50 e 52 ragazze provate a chiedere perché vedo che qui c'è 44 e 46 qui c'è un altro 52 potete fare dei bellissimi completi comunque tutti i calzoni indipendentemente da quello che costavano dico tutti guardate qui a 30 euro chiaro sto fatto vi basta questo volete anche questi bianchi non so che cosa c'è giù ancora da riassortire questa è una 42 c'è anche c'è così e c'è la 52 dopodiché 50 52 54 giusto per dirvi che dove pensate di trovare un pantalone così a 30 euro taglia 52 o anche taglia 54 eccolo qua poi si prendete una giacca sopra è quel calzone da portare magari con una camicia lunga quel calzone che dite lo prendo lo lavo e lo metto a 30 euro dite un po' voi magari potete fare anche questo abbinamento con questa maglia stupenda 39 euro taglia 54 e poi metterci la giacca nera o marrone vedete là che c'è quindi ragazza io direi che in base all'orario potremmo anche chiudere qui visto che sono già sicuramente le 15 cosa dici cazzo va benissimo io mi indosso guardate qui il cappotto giusto per fargli vedere l'altro colore di là l'avete visto verde di qua lo vediamo vediamo questo che dite amore vediamo di beccare la cintura che adesso stava uscendo o la girate su un unico colore oppure la girate dalla parte nera era per farvi vedere che questo se lo portate insieme diventa proprio quasi anche un tailleur usate il pezzo sopra come completo vedete esattamente uguale dopo di che sotto qualsiasi cosa nera la giacca nera a 49 euro perché abbiamo detto che le giacche marroni nere e verde sono a 49 euro invece di 89 bene allora la vostra Gabri penso che vi abbia trattenuto abbastanza oggi e con queste meraviglie qui a 49 euro cosa dite cosa dite cosa dite cosa dite illuminiamo questa giornata che credo che sia poi questa perché poi sabato e domenica lo danno bellissimo magari più fresco ma bellissimo quindi ragazze che dire non so dove voi vi state vi troviate ma sicuramente c'è anche chi in questi giorni è stata al caldo perché io ho ricevuto foto dalla Sicilia con 21 gradi Kate giusto ieri sì sì con l'Etna tutto innevato e con i gradi 21 gradi quindi non lamentiamoci potete prendere anche questi cappotti e portarveli le giacche tutto quello che vedete chiedete su whatsapp che noi la vostra Gabri è qui per voi sono andata un po' di corsa ma avevo da farvi vedere tantissime cose ci vediamo dove come quando su whatsapp tutte le richieste prossimamente dove su questo schermo per voi io ci sarò sempre bacioni grandi ragazze come un po' di corsa